Giffonese Casali guarda al futuro, consolidando però il legame con il passato. La scuola primaria nel Casale Prepezzano è stata intitolata a padre Matteo Ripa. Il missionario, nativo di Eboli, ha dedicato la sua vita alle missioni nelle terre dell'estremo Oriente Cinese. L'azione di padre Ripa è tra le pagine più importanti nel dialogo tra l'Occidente e la Cina, un incontro fecondo tra popoli e culture diverse. Inoltre Ripa istituì il Collegio dei Cinesi, primo nucleo dell'odierna Università Orientale di Napoli. Matteo Ripa rappresenta un'occasione privilegiata di memoria storica e di riscoperta dell'identità del territorio. Non a caso il Casale Prepezzano rappresenta il ceppo storico della famiglia Ripa, di cui Matteo è l'espressione morale e religiosa. Parlare di identità è sempre difficile, specialmente oggi che siamo nell'Unione Europea. L'identità è sempre quasi un separatismo, ma non si arriva a questo. Identità vuole dire dare un significato a quello che è il comune in sé. E' quello che sono stato nel passato le persone che hanno dato lustro a questo paese. E' stata riscerata tutta la figura e poi è stato spiegato perché viene dato il nome di una persona a qualche costo. Perché dovrebbe essere che anche la popolazione recepisca quello che in definitiva la scuola vuole dare, cioè il senso dell'appartenenza ad un territorio. Presente alla cerimonia di intitolazione è anche l'assessore alla scuola Pasquale Vetromile, l'arciprete della chiesa San Nicola di Bari di Prepezzano, Don Gerardo Nobile. La cerimonia è stata introdotta dal coro degli alunni della scuola primaria.